Non solo orsi e lupi, la convivenza tra uomo e animali selvatici in montagna riguarda anche i cinghiali. Un problema soprattutto per gli agricoltori che spesso al mattino trovano le tracce del loro passaggio. Per questo l'amministrazione di Levico insieme al servizio forestale della provincia ha installato una trappola sperimentale a vetriolo. Questi sono segni freschi del passaggio dei cinghiali, forse già di questa notte. Sono un problema i cinghiali qui? Ma effettivamente sì, ormai da qualche anno sono aumentati di numero e stanno facendo dei danni molto importanti sui nostri fondi, sui prati e non altro, anche sui pascoli invese. Parliamo di gruppi, di branchi numerosi? Sì, qua abbiamo messo delle fototrappole insieme al servizio forestale e abbiamo dei numeri, 20-30 cinghiali alla volta che stanno passando. E da qua è nata l'idea di poter, in qualche maniera, cercare di catturarli. E questa è la trappola proprio che? Certo, in questa maniera abbiamo creato questo chiusino per vedere se riusciamo a controllare la specie. L'idea è di catturarne più di uno per volta, un gruppo? Sì, certo, l'idea è di catturarne diversi, perché altrimenti col fucile sparando nella libertà è molto difficile da catturare, sono animali molto furbi, molto attenti e quindi più che uno ogni tanto non si riesce a prendere. Se quella sperimentale si dimostrerà efficace, altre trappole saranno installate nella zona. Sì, certo, l'idea è di catturarne diversi, è di catturarne diversi, è di catturarne diversi, è di catturarne diversi.